Il ROS, Raggruppamento Operativo Speciale e gli uomini del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino hanno eseguito due misure cautelari in carcere nei confronti dei soggetti indagati gravemente indiziati di aver fabbricato, portato e fatto esplodere in concorso fra loro per finalità di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico un ordigno artigianale di importante potenziale esplosivo che causò nel maggio 2020 un significativo danneggiamento al portone blindato del Centro per l'Impiego di Avellino. Le investigazioni quanto alla matrice eversiva dell'attentato hanno evidenziato come gli indagati fossero simpatizzanti dell'ampia ed eterogenea realtà nazionale avversa ai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. L'evento delittuoso si colloca quindi in un periodo storico di forti tensioni sociali caratterizzate da proteste di piazza e iniziative di contestazione al potere statuale tanto a livello centrale quanto regionale. A conferma di ciò è stato accertato che gli indagati avevano aderito all'iniziativa ascrivibile all'epoca al contesto dei movimenti spontanei popolari ed avente una dimensione nazionale di querelare il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore per i reati di attentato contro la Costituzione dello Stato, abuso d'ufficio e violenza privata con riferimento all'adozione dei provvedimenti restrittivi in materia di emergenza pandemica. Le investigazioni particolarmente complesse e delicate, oltre ad evidenziare intenti rivoluzionari palesati dagli indagati nel corso delle manifestazioni pubbliche organizzate nel territorio del Comune di Avellino, hanno dimostrato che gli stessi avevano pianificato un'ulteriore azione violenta nei loro intenti ancora più pericolosa che tuttavia non hanno portato a compimento, ora sono stati arrestati.